Musica Ecco Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera questa sera d'Augusta per Cettina Di Pietro Sindaco Siamo qua per sostenere la nostra candidata a sindaco e portare in questa città un po' d'aria fresca nelle istituzioni credo che ci riusciremo e dal giorno dopo scomparirà Equitalia cominceremo ad abbassare le tasse tagliando gli sprechi quello che stiamo facendo negli altri comuni Il messaggio che dai agli elettori? Gli altri li avete già provati sappiamo bene chi sono hanno governato questo territorio per vent'anni cambia nei volti ma non cambia il sistema politico noi crediamo di essere non solo un volto nuovo ma un modo di fare politica diverso ed è per questo che non compariamo in nessuno degli scandali di mafia capitale in nessuno degli scandali di corruzione dell'Expo, del Mose siamo gli unici a rimanere puliti in una classe politica di corrotti in nessuno degli scandali di corruzione dell'Expo, del Mose